Buongiorno a tutti, oggi 21 febbraio, giorno importante. Presentiamo ufficialmente The Digital Wall, The Wall, qui al Forum di Bologna. Tra un mese saremo a Irscia, a San Diego, a presentare negli Stati Uniti, poi saremo a Cologna, in Germania, a presentare questo nuovo concept, realmente io penso rivoluzionario. Un nuovo modo di fare health, un nuovo di fare riabilitazione, le due cose si stanno integrando da più tempo, chi ci segue come azienda, come Tecnobody, vedete che stiamo cercando di integrare il mondo high performance con il mondo medical fitness, con il mondo riabilitazione, questo plasma, questo magma che si sta integrando nel nuovo millennio, nel 2018. Digital Wall è che cos'è? È un muro digitale, come vedete, in questo caso Marco che sta facendo un esercizio di destrezza, di abilità. In tutte le palestre ci sono gli specchi, gli specchi per riflettersi, per vedersi in tempo reale. Ora si parla di realtà aumentata, è di introdotto digitale. Il paziente, l'atleta, il cliente si vede, si digitalizza in tempo reale tramite la telecamera 3D davanti allo schermo e quindi questo feedback è tutto potenziato, è tutto aumentato. Quindi vedete poco ferro in giro, poco hardware, è tutto codice, è nel lettere, questa materia è ormai impalpabile, è tutto digitale, diverse postazioni. È un muro completamente funzionale, dove vengono testate le abilità, in questo caso di flessione, o in quel caso di functional, con i cavi, o in quest'altro, con il mondo balance. Tutto integrato perché ormai è chiaro a tutti che l'esercizio va fatto in postazione a retta, è in posizione dinamica, non in posizione seduta, proprio per rispettare i parametri di postura, sia statica e dinamica, è tutto integrato. Seguitici in questo cammino, in questo percorso che durerà tutto il 2018, dall'Italia, agli Stati Uniti e alla Germania, perché questo argomento di Waller ne sentite parlare sempre più. Ciao a tutti, alla prossima! Move Different E Grazie a tutti.